Desidero porcere il mio sentito ringraziamento al Comune e alla Diocesi di San Severo, in Puglia, per la firma del protocollo di intessa avvenuta lunedì scorso, 28 ottobre, che permetterà ai braccianti dei cosiddetti Ghetti della Capitanatta nel Foggiano di ottenere una domiciliazione presso le parrocchie e l'iscrizione all'anagrafe comunale. La possibilità di avere i documenti di identità e di residenza offrirà loro nuova dignità e consentirà di uscire da una condizione di irregolarità e sfruttamento. Così Papa Francesco durante l'Angelus di Ieri. Il Papa ha davvero apprezzato l'intesa tra Comune e Diocesi di San Severo, che attraverso la firma di un protocollo risolverà il problema dei documenti dei migranti che hanno fatto richiesta di asilo. Come ampiamente documentato dal Tg Blu, la firma è avvenuta lunedì scorso presso la Curia Vescovile di San Severo, alla presenza del sindaco Francesco Miglio, del vescovo Gianni Checchinato e del cardinale Konrad Krajewski-Elemosiniere del Papa e inviato su ordine del pontefice nei ghetti della Capitanata. La questione della residenza è una delle più gravi conseguenze del primo decreto sicurezza che ha bloccato l'iscrizione all'anagrafe degli immigrati, soprattutto dei richiedenti asilo. Senza questo documento non è possibile avere un contratto di lavoro. Papa Francesco quasi sicuramente nel 2020, visti dai ghetti della Capitanata e la Diocesi di San Severo.